Carmine, la tua foto ha spopolato sui social, anche perché è stata una foto che è stata la dimostrazione di quello che è la difficoltà di voi ristoratori per portare avanti le vostre attività, soprattutto per soddisfare il cliente al meglio, e il tempo non è stato clemente. Nella tua foto, simbolica, portavi delle pizze ai tavoli sotto una pioggia abbattente. È stato tutto un anno complicato, quello è soltanto la ciliegina sulla torta. Sì, in effetti, diciamo che la foto di me che servo le pizze sotto la pioggia con l'ombrello, forse è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. C'è un anno di difficoltà che ha nominato, come spiego da sempre, proprio le certezze dell'attività di impresa, i progetti, ha nominato la vita dell'attività di ogni impresa, attenzione, che poi dopo ha subito le limitazioni, si potrebbe dire, vabbè, ha minato la vita un po' di tutti. Ok, però un imprenditore, piccolo, grande, medio, un artigiano, chi fa del lavoro delle sue mani, diciamo così, proprio il suo pane quotidiano in tutti i sensi, ne ha risentito molto. Un anno che ci ha visti trasformare logisticamente gli spazi interni ed esterni, ci ha visto trasformare il rapporto con il cliente. Io parlo di me personalmente, che sono solito, chi mi conosce lo sa, avere con i clienti un rapporto di amicizia. Cioè l'Anabeko si saluta con il mignolo, ci abbracciavamo, stavamo vicini, si brindava. Adesso ti trovi a mettere dei muri che non sono funzionali. Questo dal profilo del cliente. Passando al profilo economico. Un profilo economico dove le perdite non si contano, attività in caduta libera, salvo ovviamente l'aiuto che ci è arrivato, perché gli aiuti sono stati elargiti, ma non è un problema di sufficienza o di insufficienza degli aiuti o di proporzionalità. Anzi, ci tengo a precisare che io non protesto contro il legislatore, non protesto contro le misure nelle quali ho creduto e credo tutt'oggi, tant'è vero che faccio il carabiniere praticamente nel mio ristorante. Tuttavia c'è un insieme di emozioni. Ecco, quella pioggia mi ha riversata addosso un oceano, non solo d'acqua come si vedeva, ma anche di emozioni. Perché, come ho detto già, c'è una differenza tra l'acqua che scegli di prendere addosso e l'acqua che ti viene imposta. Quella mi è stata imposta, io non la volevo quell'acqua, non la volevo per me, non la volevo per i miei clienti. E allora ecco che è scattato quella reazione. Sei riuscita anche a dare uno sguardo a come è ripresa l'attività e quindi a renderti conto poi di quanti clienti sono ritornati o meno, ma anche magari di confrontarti con i tuoi stessi colleghi, con chi come te ha investito nella ristorazione e magari non tutti hanno riaperto. Questo è il dato più triste, che ci sono state molte chiusure. Io adesso non voglio fare il paladino ad ogni costo. Però sai, chi investe in una ristorazione, in un'attività di food, non investi solo una somma economica, non crei un'impresa che è altro da te, posto che l'impresa non è mai altro dall'imprenditore. Parlo di affezio, di proprio legame. Ritengo che si investe una vita. Io personalmente, nella mia attività, ho investito la mia vita, le mie relazioni di amicizia, le mie studi, la mia attuale professione. Parte dei miei sogni li ho sacrificati perché a un certo punto mi sono innamorato dell'attività. Ecco perché ci risulta una violenza poi dopo, tutta questa limitazione che incessantemente va avanti da un anno e mezzo. Io avevo due sale libere, due sale libere all'interno dove avrei potuto accomodare, secondo le norme e con le distanze di legge, almeno 50 persone. Fuori ne tenevo 20. Loro sono stati, devo dire la verità, li ringrazio tutti, tant'è vero che sono stati i primi poi dopo a commentare a ringraziare me. Io colgo l'occasione per ringraziare loro. Non se ne sono andati perché avrebbero potuto andarsene, figurati. Pur di non volermi, hanno visto in realtà che il mio umore andava calando goccia dopo goccia, sono rimasti, sono spostati al centro degli ombreloni, i clienti non si sono bagnati, non hanno subito nessun disagio. Se non quello di vedere mi è bagnato e dicevano ma non ti bagnare, no mettiti l'ombrello, no vieni qua, stati qua. Purtroppo c'è anche una distanza che tu devi rispettare, non ti puoi mettere vicino al tavolo e resti là così. No, no, tu. Allora, ecco, vedi, è così che non va l'attività, è così che non va la vita proprio, perché il problema è parlare di verità. La verità indiscutibile è che così non va la vita, non è che non va l'attività.